Buongiorno bibliofili, bentornati sul canale, oggi sono qui per fare una recensione di un libro che ho da pochissimo finito e che ho adorato si tratta di Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo, ovviamente questo titolo in italiano qui c'è in inglese perché il libro purtroppo c'è solo in inglese, è di Benjamin Allaire Science, spero si pronunci così e guardate la magnificenza della copertina, è qualcosa di meraviglioso sono stata spinta diciamo al comprarlo sia perché molte booktuber italiane ne parlano davvero bene e proprio per la copertina perché è stupenda, è davvero bella l'ho pagato su Amazon circa 10 euro e sono 360 pagine allora io ci ho messo un po' per leggerlo perché questa settimana ho avuto un esame all'università e quindi ci avrò messo 5-6 giorni in realtà per leggerlo perché un paio di giorni ho letto tipo 10 pagine perché non avevo proprio tempo, giorni della ripetizione matta e disperata preesame però nonostante sia in inglese è facilissimo non ho neanche per una volta dovuto andare a prendere il telefono per andare a tradurre delle parole o delle frasi come invece mi è accaduto per Fangirl di Rainbow Rowell nonostante anche quello sia semplice, quello ho avuto bisogno ogni tanto di tradurlo questo mai, assolutamente mai quindi non fatevi spaventare dalla lingua inglese perché io non sono per niente brava però l'ho capito praticamente tutto la storia tratta di Aristotele e Dante sono due ragazzi, 15 anni se non sbaglio all'inizio che soprattutto diciamo Aristotele è un po' diverso dagli altri è molto solitario, molto sulle sue ha un po' una famiglia diciamo strana nel senso che il padre è stato in guerra in Vietnam e quindi ora è molto chiuso in se stesso la madre è invece una persona molto aperta e diciamo non apertissima però rispetto al padre si vede come lei faccia vedere quanto tenga suo figlio Ari ha quanto dialoghino invece il padre è molto appunto chiuso non dialoga quasi mai col figlio o comunque non di cose importanti e poi ha due sorelle più grandi Aristotele che comunque non sono quasi mai presenti nel libro è un fratello più grande lui appunto ha 15 anni le sorelle se non sbaglio 27 è il fratello più grande 25 che però è in prigione Aristotele appunto è molto solo è Non sa nuotare tant'è che il libro praticamente inizia con Aristotele che va a una piscina incontra Dante che invece sa nuotare e che li insegna a nuotare da lì i due cominciano a conoscerci a conoscersi certo e passano l'estate insieme la storia di per sé è molto semplice non voglio dire altro perché farei spoiler praticamente subito però è un libro meraviglioso ci sono citazioni che alla fine vengono dalla mente di Aristotele e dalle parole di Dante meravigliose sul mondo in generale su come si prende la vita in considerazione su tantissime questioni dalla famiglia all'amore all'amicizia davvero meravigliose io ho amato questo libro tutto dal principio alla fine sia per la sua semplicità però grazie a questa semplicità riesce proprio a farti capire determinate cose meravigliose a raccontarti una storia stupenda di due ragazzini che cominciano a conoscere il mondo e se stessi in questi tempi in cui si conoscono anche tra loro due succede in realtà anche di tutto in questo libro non mi sarei mai aspettata quello che accade soprattutto due cose e la storia è stupenda credo di averlo già detto non posso dire altro perché farei spoiler in continuazione però è da leggere da non farsi spaventare per l'inglese ma da leggere e da amare perché so che nessuno può odiare questo libro è stupendo apprezzerete tantissimo tutto quello che è raccontato in questo libro sia la storia in sé sia le questioni trattate e vi innamorerete di Aristotele e Dante e della loro fragilità e del loro modo di vedere il mondo e di come vivono gli anni da adolescente e mi piacerà e adorerete come me la fine di questo libro soprattutto che non lascia niente al caso è stupendo vi consiglio davvero di prenderlo è stata una recensione lampo perché io non voglio dire altro voglio che voi siate rapiti dalle parole meravigliose di questo autore e di questa storia leggetelo, leggetelo, leggetelo spero che la recensione lampo nonostante le poche parole in realtà che ho detto vi sia piaciuta se vi va iscrivetevi al canale mettete mi piace al video se avete letto anche voi questo meraviglioso libro ditemelo e ditemi cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video ciao